Cari amici, nei giorni scorsi si è parlato sui siti di gossip sull'ipotesi che, scusate se parlo di me, ma così mettiamo un po' di punti chiari sulla fine di Matrix che riprende a settembre, molti di voi mi chiedono ma cosa fai, tenevi via da Matrix perché vai al sole 24 ore? Perché sui siti di gossip è uscita questa cosa che io me ne sarei andato al sole 24 ore, alcuni dicono alla radio o al giornale, la situazione è molto semplice. Io ho un rapporto straordinario perché penso che sia uno dei migliori manager italiani con l'attuale amministratore delegato del sole 24 ore che si chiama Moscetti perché è un uomo che ha una indubbia capacità e cioè quella di pensare più al bene delle aziende che al suo portafoglio, pensa alle aziende nel lungo periodo e non nel breve periodo, non guarda in faccia a nessuno, ha lavorato in un'azienda familiare come l'Amplifon e l'ha fatta diventare una multinazionale, l'ho invitato più volte a Virus quando c'avevo Virus, il Rai e quindi con Moscetti io penso che farei qualsiasi cosa lui mi chiedesse e mi sono visto con lui come mi sono sempre visto con Moscetti negli anni scorsi, proprio perché è una di quelle persone che quando ci parli c'è sempre qualche cosa da guadagnare, da guadagnare però non in termini economici ragazzi, in termini di rapporti e in termini di dove va il futuro e una delle sue frasi preferite è anche noi, anche noi che abbiamo fatto l'establishment per un lungo periodo abbiamo le nostre responsabilità. Quando mi sono visto Moscetti arrivare alla guida del Sole 24 ore dalla cui organizzazione lui era uscito sbattendo la porta perché lui uscì dall'asso lombardo ho detto ammazza che responsabilità ti sei presa per un establishment di cui tu in tempi sospetti non volevi fare parte, cioè Moscetti è stato uno dei pochi a uscire da Confindustria quando ancora Confindustria, quando diceva qualcosa da qualcuno veniva seguita. Oggi quello che dice Boccia, come si è capito chiaramente da quello che è avvenuto una settimana, due tre giorni fa nelle considerazioni finali di Boccia, se l'è filata sì e no, il Sole 24 ore, come è giusto che sia, ma il resto del mondo ha pensato a quello che diceva Calenda. Allora andiamo al dunque. Da questa indiscrizione poi è nata anche una telefonata che ho avuto con il mio amico Barisoni, che è il vice direttore della radio, che mi ha offerto, non so in base a che cosa, di fare qualche ospitata, non so per Luca Telese, che è un altro mio amico che a lui piace molto, e da qui si stava montando una questione, porro al Sole 24 ore. So che c'è una grande preoccupazione a Roma sul fatto che io potessi in qualche maniera poter mettere un piede in un giornale che è tecnicamente fallito, non per colpa dei giornalisti, non per colpa di quello che scrive, ma per colpa di come è stato gestito negli ultimi vent'anni in maniera criminale, per il fatto che la Confindustria che ci ha sempre fatto le pulci a tutto il paese su come doveva funzionare, invece lei stessa funzionava di merda. Io sono stato querelato, non solo dalla Mercegaglia che è andata a piagnucolare da Woodcock per quella operazione, il PM ha chiesto la mia soluzione e il giudice mi ha dato la mia soluzione dopo sei anni, perché la signora Marcegaglia con il suo assistente Arpisella, quello che sì che ricattava le persone come si è dimostrato in una telefonata a panorama, quella signora ha piagnucolato da Woodcock e io mi sono preso sei anni di processo, io trovo che la Confindustria non sia questa roba qua, che non sia questa roba romana, che esistono le federazioni della Confindustria, gente seria che lavora, che crede all'importanza associativa, penso che ci siano in molte realtà locali, la Confindustria sia l'unico posto in cui gli imprenditori fanno sistema, poi arrivano a Roma, poi arrivano da Boccia, poi fanno le loro considerazioni finali, poi usano il loro aereo privato, poi c'hanno gli autisti e c'hanno le scorte, secondo voi quanto posso essere compatibile io con il Sole 24 ore? Quanto posso essere compatibile? E' anche vero che poi parlando con Barisoni ho capito che là dentro è una specie di Vietnam, Minoli, Giannino, che è un altro bravissimo, ma insomma litigano tutti con tutti, va la pena fare una cosa di questo tipo? Ragazzi, io ve lo dico con grandissima chiarezza, lo dico anche a quei pochi che si stanno preoccupando a Roma, ho un lavoro stupendo perché faccio il vice direttore del giornale, ho un lavoro favoloso perché lo faccio su Facebook tutte le mattine con voi e ho la libertà di dire quello che mi pare anche della Confindustria e anche del Sole 24 ore, ho un lavoro stupendo in televisione che si chiama Matrix, è vero Silvia, un liberale non è compatibile con niente, un liberale sarebbe compatibile con un Sole 24 ore in cui a comandare fossero le imprese, non la Confindustria, con un Sole 24 ore in cui le piccole rivalità di giornalisti fossero una roba normale come avviene in tutti i giornali e non una specie di, come quando una nave sta un po' sbandando, tutti pensano che la sbandata si derivi da altri, sono tutti quanti lì che non riescono a capire che cosa succede, molto rispetto io nutro nei confronti di quei colleghi del Sole 24 ore che leggo tutte le mattine che nonostante lo sbandamento di questa nave riescono a scrivere i loro pezzi con serietà, molto, ma moltissima stima ho nei confronti dell'attuale direttore del Sole Indicatore Guido Gentili che mi sembra che stia facendo un lavoro favoloso, il punto fondamentale è state tranquilli, state tranquilli, boccia, stai tranquillo, stai tranquillo, faccio un passo indietro, fatto un passo indietro, non voglio che anche tu diventi come il Conte Mascetti, fai le tue considerazioni finali, ascolta Calenda, fatti i tuoi rapporti tranquilli con tutti, pensate un po' voi se a 40 anni devo andare a rompere le balle a un giornale come il Sole 24 ore, stiamo tutti bene come stiamo, vi libero da questo pettegolezzo a voi che mi guardate su Facebook dicendo ragazzi ma che ce ne fotte a noi dai pettegolezzi, noi continuiamo a fare il nostro lavoro benissimo, non c'è bisogno che a Roma si industrino troppo, porro al Sole 24 ore con questi che stanno là tutti quanti a fare, a me mi diverte pure, mi diverte, ero in dubbio se fare questa diretta perché dico lasciamoli rosolare in questa idea che porro potesse arrivare al Sole 24 ore, in realtà penso che questo sia il massimo e parlo seriamente del rispetto che io devo avere nei confronti di un signore che si chiama Moscetti, non Mascetti, Moscetti, che è l'uomo che riuscirà, se lo faranno lavorare, a rendere ancora forte un gruppo editoriale rovinato da questi quattro politici che una volta che arrivano a Roma non avendo mai avuto un'azienda alle loro spalle o avendo poco alle loro spalle hanno pensato di fare carriera con la Confindustria, ecco quella è una roba a cui io non posso ovviamente partecipare. Ognuno ha l'editore che si merita, ognuno direbbe qualcuno è infelice a modo suo. Fatemi essere infelice già con i miei editori, non aggiungiamone un altro. Quindi diciamo che questa zuppa pomeridiana è una zuppa che può mettere, diciamo, fine a un pettevolezzo che per gli addetti ai lavori è durato anche troppo. Ciao!